Musica Buonasera, benvenuti al nostro telegiornale. Apriamo subito parlando del caso Monterosso, l'ex segretario della regione siciliana. Sarà il nuovo direttore della Fondazione Federico II, scatta la polemica, protesta il Movimento 5 Stelle, che dice manovra di bassissimo profilo. Da una parte il governo regionale si trova a dover rimpiazzare il nuovo assessore all'energia e ai rifiuti, dall'altra muove piedine interne a livelli dirigenziali. Maria Mattarella, figlia dell'ex presidente della regione Piersanti, come segretario generale, e Patrizia Monterosso al vertice della Fondazione Federico II. Sono le due nomine decise da Nello Musumeci per la prima e Gianfranco Miccichè per la seconda. Il caso vuole che la Mattarella sostituisca proprio la Monterosso nel ruolo di segretario generale, ma non tutti hanno gradito la scelta. Claudio Fava punta il dito contro la decisione definendola inopportuna e che non tranquillizza chi sperava di vedere proseguire l'opera di risanamento economico e di crescita dell'offerta culturale della Fondazione Federico II. Si unisce Giancarlo Cancelleri, che in qualità di vicepresidente dell'Arsa, avendo partecipato alla seduta nel corso della quale è stata comunicata la nomina, asserisce che si tratta dell'ennesima vergogna della coppia Musumeci-Miccichè, perché la Monterosso praticamente esce dalla porta per rientrare dalla finestra. Ed è proprio notizia dei giorni scorsi che il procuratore della Corte dei Conti abbia chiesto alle giunte Lombardo e Crocetta un risanamento di quasi un milione di euro per la nomina dell'ex segretario della regione siciliana Patrizia Monterosso, senza contare che la Monterosso è stata condannata, perpeculato sempre dalla magistratura contabile, ad un risarcimento di quasi un milione e trecentomila euro per la questione degli extra budget della formazione professionale. Chi rincara la dose è Vincenzo Figuccia, ora tornato a fare il deputato dell'Udc, che afferma La nomina della dottoressa Patrizia Monterosso al vertice della fondazione Federico II è l'ennesima beffa per i cittadini. Non resistono nemmeno le condanne della Corte dei Conti davanti alla volontà del presidente dell'ARS di fare tornare indietro di vent'anni la politica siciliana. Insomma, le gatte da pelare non sono solo in giunta, ora sono anche all'ARS. Buona notizia invece per il primo gruppo di precari del comune di Catania, precari storici, questa mattina nella sede dell'ufficio del personale, la firma del contratto di stabilizzazione per 53 di loro. Si dice soddisfatto il sindaco Enzo Bianco. Sindaco, proprio alla fine dell'anno una grande notizia arriva dal comune di Catania la stabilizzazione di precari storici. Guardi, sono veramente felice. Ci sono delle persone che lavoravano come precari, i cosiddetti PUC, al comune di Catania, qualcuno addirittura da 25 anni, come dire, si hanno passato un pezzo rilevante della loro vita. Avevo preso un impegno che avrei cercato di stabilizzarli. Proprio oggi firmeremo gli atti perché i primi 53 che hanno superato l'idoneità finalmente diventeranno dipendenti a pieno titolo del comune. Nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, scorreremo la gradatoria e io penso di poter dare un segnale importante nei limiti di quello che la legge mi consente per sistemarli tutti in condizioni dignitose. Sono davvero felice, passeranno una fine dell'anno straordinaria e io giusco con loro. E rimaniamo a Catania perché Pubblici Servizi è salva per i prossimi 5 anni. È stato firmato il contratto di servizio che partirà dal 1 gennaio. Bellissimo regalo di fine anno per i 400 lavoratori di Pubblici Servizi che dopo aver ricevuto a Natale gli stipendi arretrati ora si vedono rinnovato il contratto per i prossimi 5 anni. La firma, per un importo complessivo pari a 66 milioni di euro, oltre IVA, pari a 1.100 euro al mese a dipendente, è stato sottoscritto ieri, dunque entro il 2017, come era stato promesso. Firma che è stata messa dal sindaco di Catania, Enzo Bianco, per la città metropolitana, dal dirigente del quinto servizio Appalti, l'ingegnere Salvatore Roberti, e per la Pubblici Servizi, dall'amministratore unico Silvio Ontario. Il documento prevede, tra l'altro, l'affidamento pluriennale del servizio di Facilities Management alla Pubblici Servizi S.p.A. già dal 1 gennaio del 2018, la gestione della viabilità delle strade ex provinciali, la manutenzione degli edifici della città metropolitana, inclusi i plessi scolastici, la manutenzione del verde nelle scuole degli edifici dell'ente, il rischio idrogeologico, il recupero dei rifiuti, il servizio ai tetti fotovoltaici, l'accoglienza, il centralino, la pulizia e l'emergenza a neve. Gli impegni presi sono stati mantenuti, ha affermato Bianco. Quasi 400 lavoratori possono adesso guardare con serenità al nuovo anno e al loro prossimo futuro. Un atteso e significativo risultato, ottenuto grazie all'impegno collettivo di amministrazione, funzionari della città metropolitana, forze sindacali, vertici aziendali e lavoratori. E cambiamo argomento, la Sicilia è alle prese con una nuova emergenza rifiuti, riguarda 50 comuni, massima parte nel Palermitano, i cui sindaci protestano contro la regione e chiedono un intervento immediato. Da un'emergenza all'altra, per i rifiuti in Sicilia siamo arrivati ormai alla fine dell'anno e i problemi sono solo aumentati. Da un lato ci sono 50 comuni del Palermitano che protestano perché non possono più scaricare a Bello Lampo, dall'altro ci sono le grane politiche con cui il nuovo governo regionale deve fare i conti. Prima si è dimesso l'assessore regionale Vincenzo Figuccia, poi anche il dirigente generale Gaetano Velastro che ha preferito tornare all'Agenzia per l'Ambiente di Siracusa. Il presidente della regione musumece è stato quindi costretto a nominare Salvo Cocina, dirigente dell'ufficio speciale per la raccolta differenziata in passato al vertice della protezione civile che ora guiderà il Dipartimento Acqua e Rifiuti. I 50 sindaci sono sul piede di guerra. Da pochi giorni la discarica di Bello Lampo è infatti aperta solo per i comuni di Palermo e Ustica e da gennaio rischia di essere satura. Struttura che ha una capienza di circa 1300 tonnellate al giorno con 900 assorbite solo dalla spazzatura di Palermo. L'unica alternativa proposta ai 50 comuni è il dirottamento degli automezzi nella discarica di OICOS di Motta Sant'Anastasia in provincia di Catania, ma solo dopo un trattamento di stabilizzazione dei rifiuti che la società Eco Ambiente continuerà a fare a Bello Lampo e con costi in aumento, appena del 10% rispetto a Palermo sui costi di discarica e 52 euro a tonnellate in più per il trasporto. In una nota congiunta, i 50 sindaci hanno scritto a Musumeci Il sistema è al collasso e il neoassessore ha abbandonato la nave al porto. Ora l'unico interlocutore a questo punto è lei, presidente. Ma la risposta alla missiva non è ancora arrivata e attendono dal 20 dicembre. Si rischia dunque una nuova emergenza. Una società di allevamento di bestiami, di capi di bestiame, tre immobili, un'auto di grossa cilindrata, conti correnti e altri rapporti finanziari per un valore di 700 mila euro. Questo è il valore del sequestro al boss della famiglia Ragaglia. Un nuovo colpo al clan Laudani, il provvedimento riguarda Francesco Rosta. 74 anni, elemento di vertice della famiglia mafiosa Ragaglia, egemone nel comune di Randazzo, è collegata al clan Laudani. Di Catania i beni erano già posti sotto sequestro dal settembre del 2016 dal personale della DIA di Catania, secondo il decreto di sequestro emesso dal tribunale di Catania in sinergia con la procura diretta dal procuratore Carmelo Zuccaro. E andiamo avanti con un post su Facebook, il no a ogni intimidazione da parte della proprietà della sala ricevimenti Santorini. Siamo a Monforte Marina, in provincia di Messina. Il locale, che ha subito gravi danni nell'atto intimidatorio di alcuni giorni fa, doveva essere inaugurato proprio per il veione di Capodanno, intanto i carabinieri sarebbero sulle tracce dei responsabili. Non illudetevi, ci avete solo scalfito, non piegato né tanto meno spezzato. Siamo già di nuovo in piedi a testa alta perché noi viviamo nella legalità e confidiamo solo in essa. Questo è il messaggio che la proprietà della sala ricevimenti Santorini di Monforte Marina, in provincia di Messina, ha lanciato nella pagina Facebook del locale dopo l'attentato incendiario avvenuto nella notte tra il 28 e il 29 dicembre. L'elegante location per eventi aveva ricevuto da poco un restyling e proprio con il veglione di San Silvestro doveva esserci l'inaugurazione. Ma il vileatto, che ha mandato in fumo due ali della struttura facendo riportare danni per oltre 100.000 euro, non ha sortito quell'effetto di demoralizzazione e rinuncia che si voleva, come è stato dichiarato nel post. Il nostro capodanno è stato scritto e solo rimandato e non appena saremo pronti sarà ancora la festa di tutti coloro che sono stati, sono e saranno accanto a noi. Dalle indagini subito scattate da parte della Compagnia dei Carabinieri di Milazzo immediatamente intervenuti quando è stato dato l'allarme delle fiamme insieme ai vigili del fuoco che hanno cercato di salvare il più possibile, pare che già siano stati individuati i responsabili che molto probabilmente volevano impedire l'apertura del Santorini. Sul posto, infatti, erano state rinvenute etaniche di benzina e tracce di liquido infiammabile, oltre indumenti come passamontagna calzini e anche scarpe bruciate che hanno fatto subito pensare che chi ha compiuto quello che appare evidentemente come un atto doloso siano rimasti ustionati mentre appiccavano il fuoco. Da questi indizi, gli uomini dell'arma si sarebbero già messi sulle tracce dei presunti malviventi. Il capodanno da favola questa volta non è stato reso possibile da mani criminali, ma certamente il coraggio e l'onestà della società del Santorini ha dato la forza per rialzarsi immediatamente contro ogni intimidazione e prepotenza. La corruzione è un pericolo per lo sviluppo dell'economia dell'isola. I dati che riguardano la Sicilia sono ancora allarmanti nonostante i risultati ottenuti dalla Guardia di Finanza in merito alla corruzione nella pubblica amministrazione. 32 milioni di euro il volume d'affari solo in Sicilia delle attività di peculato. Poco meno di 3 milioni di euro sono le somme connesse alle condotte corruttive e concursive scoperte dall'attività di controllo delle fiamme gialle. A confermarlo sono i dati dell'ultimo biennio della Guardia di Finanza che ha segnalato frodi ai danni dell'Unione Europea per 203 milioni di euro attraverso un lavoro di intelligence che ha portato a 759 verifiche fra indagini amministrative e controlli incosciati. Più di mille invece le indagini hanno riguardato reati a danno della pubblica amministrazione. Guardia di Finanza in questo 2017 si è mossa sostanzialmente su tre grossi settori operativi tre macro aree se vogliamo semplificare il concetto. Una prima macro area è quella della spesa pubblica è quella dell'attività di controllo su quella che è la gestione delle risorse pubbliche degli appalti delle forniture quindi tutto ciò che è risorse di noi cittadini che devono essere finalizzate correttamente allo sviluppo alla crescita alle infrastrutture alla sanità alla scuola. Noi i controlli li facciamo non a caso quindi noi abbiamo controllato dei flussi finanziari su cui in base alla nostra attività di intelligence l'attività informativa l'attività di indagine avevamo degli indizi di criticità di pericolo di rischio poi abbiamo investito molto anche nel contrasto alla crescita organizzata di tipo mafioso ovviamente soprattutto a quello che è l'inquinamento del tessuto economico e finanziario siciliano che viene realizzato dai soldi lucrati dalle organizzazioni criminali mafiose. La collaborazione del Corpo con la Procura Generale della Corte dei Conti per la Sicilia nella lotta agli sprechi di risorse pubbliche ha fatto emergere anche 442 casi di danno erariale per circa 425 milioni di euro complessivi a fronte dei quali sono state individuate le responsabilità amministrative a carico di 1.709 persone. Ieri pomeriggio un violento incendio si è sviluppato all'interno di un'abitazione in stato di abbandono nota come la villa dei fantasmi per via delle leggende che circolano sul suo conto di fronte Piazza Cimitero a Mascaluccia due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono intervenute insieme ad Autobotti e un'autoscala Docente a Stanford è collaboratore della NASA dove sviluppa progetti a supporto della guida di auto senza conducente a Ultima TV la storia di Marco Pavone un ingegnere catanese da tempo trapiantato negli States lui è Marco Pavone ingegnere aerospaziale docente a Stanford collabora con la NASA nelle missioni su Marte e progetta le auto senza conducente torinese di nascita ma catanese di adozione si è laureato in ingegneria informatica a Catania e poi è partito per gli Stati Uniti dove attualmente risiede per iniziare una ricca carriera costellata da grandi successi nel 2010 mi sono trasferito a Pasadena che è una piccola città a nord di Los Angeles dove c'è un centro della NASA che si chiama Jet Propulsion Lab che si focalizza sullo sviluppo di sistemi robotici aerospaziali il presidente degli Stati Uniti uscente Barack Obama gli ha conferito il più importante premio assegnato dal governo americano agli scienziati e agli ingegneri più promettenti degli Stati Uniti per il suo lavoro sui robot spaziali realizzato in collaborazione con la NASA un esempio di un siciliano un catanese che porta alto il nome di questa terra e che non ha mai smesso di crederci la robotica in questo periodo è in una fase di fortissima espansione forse il robot che attualmente è più nelle news è l'auto senza conducente che sta un po' rivoluzionando o potrebbe rivoluzionare i sistemi di trasporto come li conosciamo sia start-up sia aziende informatiche come ad esempio Google o Uber sia case automobilistiche come ad esempio la Mercedes o l'Audio e così via stanno investendo fortemente sullo sviluppo dell'auto senza conducente a livello tecnologico in particolar modo robotico l'Italia e poi soprattutto la Sicilia com'è? l'Italia ha una tradizione molto forte e molto lunga nel campo robotica nel campo dell'automatica è interessante che Catania si specializza sulla robotica per ambienti estremi e quindi c'è una forte tradizione nello sviluppo di sistemi robotici che possano esplorare sistemi molto difficili da esplorare Cambiamo argomento previsti nuovi aumenti nel 2018 per i consumatori a denunciarlo è il Codacons che annuncia battaglie a favore dei cittadini Dal prossimo primo gennaio ci sarà questo nuovo brazello che si abbatterà a pubblico sulle famiglie italiane i sacchetti utilizzati nei supermercati per imbustare la frutta la verdura il pesce gli affettati e altri prodotti alimentari diventeranno a pagamento introducendo così una nuova tasso occulta a carico dei consumatori questo significa che ogni volta che si va a fare la spesa il supermercato occorrerà pagare dai 2 ai 10 centesimi di euro per ogni sacchetto e sarà obbligatorio utilizzare un sacchetto per ogni gira alimentare non potendo naturalmente mischiare i prodotti che vanno pesati e che hanno prezzi differenti questo cosa comporterà comporterà per i consumatori una nuova stancata che varia dai 20 ai 50 euro a famiglia secondo naturalmente della frequenza degli acquisti nel corso dell'anno per noi lo abbiamo già detto è una vera e propria tassa occulta a danno dei cittadini che non ha nulla a che vedere con la giusta battaglia in favore dell'ambiente Confesercenti Catania traccia il bilancio del sistema imprenditoriale catanese il direttore Salvo Politino spiega come il sistema imprenditoriale etneo vede prevalere il numero delle iscrizioni delle imprese con un saldo positivo del più 1977 i dati ci portano a pensare in positivo ma ribadiamo ancora una volta quello che è il valore sociale prima che economico della piccola e media impresa che purtroppo si vede incalzata da tutta una serie di fattori come quello della grande distribuzione che è fortemente presente nella città di Catania dal caro affitti dalla pressione fiscale e direi dalla mancanza soprattutto di programmazione da parte della politica quello che noi chiediamo all'amministrazione comunale è una programmazione seria quello che chiediamo è anche l'individuazione di alcune zone franche all'interno del centro storico non a caso nel report nostro di fine anno è stato anche evidenziato quella che è l'incidenza delle imprese giovanile e delle imprese al femminile e poi il governo regionale soprattutto un'attività di programmazione dei bandi che guardino soprattutto il mondo delle piccole e medie imprese Cambiamo ancora una volta argomento forse l'ordine impegnate per contrastare i botti di capodanno con una campagna di sensibilizzazione da parte della polizia di stato a Catania il sindaco Enzo Bianco ha invitato i cittadini a non portare con sé fuochi artificiali vietando anche la vendita in centro storico di superalcolici Contrastare il fenomeno dei botti di capodanno e soprattutto dei danni che causano ogni anno con centinaia di feriti la polizia di stato ha fatto partire una campagna di informazione e sensibilizzazione con diversi video tutorial disponibili sul proprio sito riguardo l'uso corretto e consapevole dei fuochi artificiali un medico un artificiere ed un cinofilo della polizia mettono in guardia sui rischi dei botti in particolare quando vietati o non conformi alla normativa europea forza dell'ordine come di consueto impegnate nei giorni che precedono il capodanno al controllo e al sequestro del materiale pericoloso anche il sindaco di catania Enzo Bianco si è espresso nei giorni scorsi pregando i cittadini di non portare con sé giochi pirotecnici la notte di capodanno il primo cittadino ha anche disposto per l'occasione il divieto di somministrazione e la vendita di bevande in vetro e di superalcolici di gradazione superiore ai 21 gradi divieti in vigore in piazza Duomo piazza università e nelle vie limitrofe fino ad un raggio di 200 metri a partire dalle 14 del 31 dicembre fino alle 6 del primo gennaio obiettivo garantire la sicurezza e l'incolumità dei partecipanti al capodanno e garantire l'ordine pubblico nel centro storico E il 2017 si sta concludendo quali sono le prospettive e le aspettative dei catanesi per il 2018 Damiano Scala lo ha chiesto questa mattina nelle interviste realizzate in centro storico sentiamo cosa hanno risposto Tante speranze e poche certezze la consapevolezza che qualcosa rispetta al passato va cambiata assolutamente questo è il quadro che i siciliani fanno del 2018 il 2017 è ormai quasi alle spalle con tante considerazioni di carattere sociale lavorativo e culturale Mi aspetto di continuare a lavorare qui dove lavoro mi aspetto un futuro migliore mi aspetto una vita matrimoniale felice Il 2018 bellissimo anche per il mio portiere e tante altre persone che stanno male speriamo che si risolvano tante cose bene Magari il Catania in serie B La prima cosa è questa Forza Catania Il 2017 si chiude con l'adozione della piccola Imma cosa ti aspetta il 2018 Spero che ci siano meno cani maltrattati abbandonati spero che tutte le persone possano capire il valore dell'animale che non è proprio in sé un animale è come un figlio Speriamo che sia diverso nel 2017 naturalmente si spera sempre ogni anno così ma quest'anno in particolar modo che si è visto che la povertà sta aumentando fra di noi italiani io vedo la carità che è sempre piena non più di estracomunitari ma ben sì di famiglie di italiani Tra chi ha trovato lavoro e chi ha rischiato di perderlo il contesto economico gioca un ruolo fondamentale Un ripristino delle vendite che la città torni nuovamente ad essere viva come lo era una volta che per noi è importante Io mi auguro che questo 2018 sia più prosperoso quanto riguardi che siamo meno tartassati Un augurio a tutti i siciliani che passeranno un capodanno in questa terra meravigliosa la terra più più bella d'Italia detto dal mondo non solo d'Italia Sono molto ottimista speriamo che le cose vadano meglio e cosa possiamo dire un augurio a tutti quanti con la possibilità che si vada a migliorare e anche alle persone che in questo momento sono in difficoltà possono avere una speranza e qualcosa di positivo per questo 2018 che sta a entrare Cambiamo ancora una volta argomento terza inaugurazione per Piazza Falcone sempre a Catania nel quartiere di San Berillo Vecchio dopo la vandalizzazione l'amministrazione comunale dona la piazza ai cittadini Vandalizzata più volte e sempre riconsegnata alla città e Piazza Falcone nel quartiere San Berillo Vecchio i lavori affidati alla Global Service per la manutenzione straordinaria e il restyling della zona erano iniziati il 22 novembre scorso Questa piazza che è una delizia nel cuore della città era veramente diventata un parcheggio abusivo selvaggio al buio e quindi la gente scappava dal centro oggi diamo un segnale chiaro evidente grazie alla cura particolare che l'assessore di Salvo ha dato in collaborazione anche con la municipalità e con il quartiere questa piazza è completamente restaurata non si può entrare più con la macchina c'è la pista ciclabile di Fenedemo anche quella c'è tanto verde è un luogo di aggregazione una piazza in cui incontrarsi è del segno di un cambiamento seguirà a questo altri interventi in molte piazze della città nelle periferie della città nel centro storico della città con interventi di riqualificazione di manutenzione straordinaria che finalmente possiamo svolgere perché siamo riusciti a ritrovare le risorse per fare tutto questo una zona a servizio dei cittadini ai quali però l'assessore all'urbanistica Salvo Di Salvo rivolge un appello il degrado di questi anni è stato causato dal vandalismo un appello mi sento di farlo ai cittadini per una partecipazione per una collaborazione affinché gli interventi che si fanno e sono interventi che hanno anche un costo che è un costo di un denaro pubblico qui all'incirca abbiamo speso 100.000 euro per poter recuperare questa piazza anche i cittadini mi auguro che possono partecipare un anno molto importante per le opere realizzate l'anno in cui l'amministrazione comunale dopo i primi anni che sono stati veramente sacrificanti perché abbiamo dovuto innanzitutto recuperare una situazione finanziaria e economica dell'ente che era disastrosa realmente disastrosa 15 giugno scade una gara con 4 interventi di manutenzione delle strade faremo via Dusmet faremo via le Africa faremo il lungomare faremo l'intera circonvolazione faremo via Domenico Tempio c'è un'attività molto importante che interesserà complessivamente la città e adesso lo spettacolo ieri sera grande successo per la prima data del concerto di Biagio Antonacci al Palart Hotel di Acireale dedica Emanietur il sold out registrato a sorprese il duetto con l'artista siciliano Marin Cudine e allora ciao a questa bella magica unica terra di Sicilia e ancora una volta siete entrati dentro dentro e ancora una volta staremo insieme ed ecco i fiati doppio appuntamento e doppio sold out per i due live di Biagio Antonacci al Palart Hotel di Acireale ieri e questa sera pubblico in delirio per una delle voci italiane più amate di sempre Dedic Emanietur che porta ai tutti i maggiori teatri italiani da un lato ci sono le sue canzoni che dedica o che vengono dedicate a qualcuno e dall'altro le manie che rappresentano la parte più istintiva del suo carattere cosa vi piace di lui? è lui sicuro sono qui con mia suocera che anche lei lo segue da sempre l'ho portata a posto e gli ho fatto questo regalo le sue canzoni sono bellissime ti entrano nell'animo siamo venute da Palermo e io dopo undici anni sono al concerto di Biagio Antonacci a me piace tutto di Biagio mi piace il suo modo di cantare il suo modo sex anche di di presentarsi a sorpresa sul palco un gran artista siciliano Mario Incudine con il quale Antonacci ha duettato nel brano Mio fratello immagini raccontate dai tanti fan attraverso i video postati sui social i due concerti di Biagio Antonacci danno il via ad una lunga stagione live che vedrà la presenza al Palau Totele 10 Reale delle firme più prestigiosi della musica italiana il primo appuntamento del 2018 con Pezzali Neck e Reng il 3 febbraio il 2 maggio a grande richiesta Antonacci tornerà ad Acireale per regalare nuove emozioni sappiamo che questi siamo noi e adesso ci fermiamo per pochi istanti di pubblicità tra poco vi aspettiamo tutti i mercoledì su Ultima TV canale 87 parleremo insieme di salute e di benessere e lo faremo insieme ai professionisti dell'azienda ospedaliera Garibaldi di Catania un'occasione unica per sciare sulle incantevoli piste dell'Etna anzi un'occasione doppia grazie all'abbonamento per la stagione sciistica per gli impianti di risalita sui versanti di lingua glossa e nicolosi l'abbonamento stagionale può essere sottoscritto presso la partenza della funivia dell'Etna al Rifugio Sapienza oppure alla partenza della seggiovia a Piano Provenzana a Piano Provenzana La notizia sportiva 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 La notizia sportiva